Madonna mia che fortuna che c'hanno questi qua ma è incredibile oh che bucio di culo ragazzi Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video di Roll Fan Sono appena finiti i sorteggi dei quarti di Champions League ragazzi La Juventus indovinate chi ha preso, ha beccato? L'Ajax, cioè era proprio, gli è andata di lusso No vabbè però pensandoci bene di lusso proprio no Però io credo ragazzi che la Juventus è molto molto più forte dell'Ajax Ricordiamoci però che l'Ajax ha battuto e ha eliminato il Real Madrid in trasferta vincendo per 4-1 ragazzi Quindi io l'Ajax lo conosco, è una squadra compatta che ci mette il cuore Però ripeto, la Juventus è superiore Assolutamente un Ronaldo, un Bernadeschi, Spinazzola Di Bala Cioè raga, veramente secondo me troppo troppo forti E niente ragazzi Però comunque se dovesse passare la Juventus Poi il cammino si farebbe un po' difficile Perché Appunto se la Juventus poi passa il turno Deve beccare, dovrà beccare una tra Tottenham e Manchester City Quindi i tifosi della Juventus ti feranno Tottenham Però io spero che la Juve passa Anzi no che non passa Però passa il Manchester City Per poi la Juventus se deve passare Deve beccare il Manchester City Quindi ragazzi lo spero veramente E niente Poi ragazzi il Barcellona prende il Manchester United Quindi ragazzi bella bella partita E poi il Liverpool Il Porto ragazzi Il Liverpool a Kloppi è andata proprio di lusso Di lusso E niente ragazzi Ora alle ore 13 ci saranno i sorteggi Di Europa League Soprattutto quelli del Napoli Speriamo bene Mamma mia Dobbiamo evitare uno tra Arsenal e Chelsea Ma poi ci stanno pure altre squadre Incredibili Il Sevilla ieri poi è stato eliminato E godo Dobbiamo essere fortunati A beccare lo Slavia Praga Però ricordiamoci che lo Slavia Praga Ieri appunto ha battuto il Sevilla Ha fatto veramente Una grandissima partita Niente ragazzi Ci vediamo dopo col post Sorteggi Di Europa League Speriamo bene E sempre Forza Napoli